Ciao a tutti ragazzi, è appena terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in preparazione, alla vigilia, di Juventus Salernitana. Lo dico subito, tranquillamente così, do un input a chi sta per guardare questo video della partita con la Salernitana, si parlerà poco o niente. Allegri praticamente non ne ha parlato. È stato una sorta di salto nel passato e siamo tornati indietro di 48-72 ore, qualcosa del genere, e abbiamo continuato a parlare del Villareal e di quello che ha provocato l'uscita dalla Champions con il Villareal. Nella Salernitana si sono spese due robe, la squadra è diversa dall'andata, Nicola è nostro duro, verranno a provare a farci male, la formazione gioca Arthur e poi non so gli altri, basta, ci hai detto niente di più. Però proprio per questo dico che, per quanto mi riguarda, poi liberi di essere in disaccordo, è stata una conferenza stampa interessante. In cui Allegri non è stato ancora del tutto onesto, ma questo lo sappiamo, non lo farà mai, però diverse cose vanno ad incastrarsi, facendo riferimento anche al video che ho fatto ieri, quello degli obiettivi in cui dico banalmente che la società avrà chiesto ad Allegri fare determinate cose e che poteva spiegare l'uscita bruttissima, per quanto mi riguarda, inerente all'onestà intellettuale, alla disonestà, scusate, intellettuale citata da Allegri post eliminazione. Vi dico che, ovvio, a caldo si è un po' più stressato e quindi Allegri oggi era più rilassato, era sorridente, era tranquillo, nonostante sicuramente non fosse davvero contento, però avrei apprezzato molto di più un Allegri che provava a dare queste risposte, dopo arriveremo e vi farò capire anche perché vi sto dicendo questo, più aperte, perché siamo sempre lì. Ognuno è libero di dire quello che vuole, ognuno è libero di pensare quello che vuole, non c'è problema, se la pensi diversamente da me non c'è problema. È sempre il modo in cui ti poni, che poi ti fa andare dalla parte del torto o da quella della ragione. Perché un'opinione è sacrosanta, non la puoi mettere in discussione. Tu la pensi così, io la penso così. Quando invece mi attacchi e mi accusi di essere nel torto e di pensarla così, perché questo, quello, quell'altro, allora abbassi drasticamente il livello di discussione e non hai più ragione. Punto, non c'è da girarci intorno. Scaricate OneFootball, link qui sotto in descrizione, per capire qualcosa di più sulla formazione effettiva che verrà schierata domani, perché appunto, come vi dicevo, Allegri ha parlato zero, quindi su OneFootball avrete tutti gli aggiornamenti in tempo reale completamente gratis. Allegri dice, Chiellini, Ibala e Bernardeschi non hanno ancora 90 minuti nelle gambe, quindi vedremo chi partirà dall'inizio e chi invece verrà con me in panchina. Questa mattina appunto, parlando di Ibala e di Quadrado, avevamo citato, no? Quella che sembrava essere un'elite scoppiata all'interno della continassa durante l'allenamento, quando Ibala e Quadrado vanno a chiedere qualche ora o di riposo in più rispetto al programma che invece aveva dato Massimiliano Allegri all'indomani dell'eliminazione in Champions League, di lite, disastri, quei là, Allegri dice, guardate, loro hanno fatto una richiesta. Io ho detto, io no, non è successo niente, rimaniamo in ritiro, stiamo tutti insieme e prepariamo al meglio la partita con il voler stare tutti insieme. Qui però mi fermo un attimo, ragazzi, perché a me sembra assurdo che dopo una sconfitta così brutta da parte della Juventus si vada a chiedere da parte di giocatori del tempo libero o alla vigilia di una partita che dovreste approcciare in maniera assurda. Ne ho parlato nel video di oggi, quindi non l'avevo sottolineato in tempo reale, ma poi editando il video mi è venuto in mente che una cosa del genere non può passare inosservata. Poi però Allegri va a contraddirsi per quanto mi riguarda. E lo dice uno che stamattina mi ha detto, se questa è l'alite non è successo niente, è stato pompato tutto, punto. In realtà poi Allegri dice, dopo la partita con il video real, mentre stavo andando a dormire ho pensato siamo un po' troppo piatti, dobbiamo cercare di far casino e quindi ringrazio i ragazzi perché hanno fatto casino. E allora dal non è successo niente, bla bla bla, al casino, facciamo casino, hanno fatto casino, c'è stato casino. Allora la domanda sorge spontanea, non è successo niente o c'è stato casino? Perché io fino a questa frase di Allegri, tra l'altro non richiesta, l'ha aggiunta lui di sua spontanea volontà, ho detto, vabbè, allora l'ho letta bene stamattina, non è successo niente, è stata pompata dai giornali, magari per mettere in posizione scomoda di bala gli occhi dei tifosi, per indurre a poi giustificare l'accessione, non rinnovo, però ora mi chiedo, c'è stato casino o non è successo niente? Perché è l'allenatore stesso che mi mette questo dubbio. E qua voglio sapere anche la vostra, voglio capire se intanto l'ho pensata solo io sta cosa, o se l'avete pensata anche voi, ed eventualmente che risposta vi siete dati. Io sinceramente faccio fatica a spiegarmi il motivo per cui Allegri debba tornare sopra la stessa domanda che aveva già chiuso, in un modo per aprire a tutt'altra interpretazione. È una cosa che mi ha veramente spiazzato, quindi forse magari davvero non c'è stato niente, però la risposta quantomeno è strana. Insieme alla società stiamo costruendo un percorso, abbiamo messo buone basi, ma per costruire ci vuole tanto. Siamo sulla buona squadra e abbiamo trovato una scorciatoia, e quando ho parlato di scorciatoia io subito ho pensato a Vlaovic, cioè Vlaovic e Zaccaria, cioè mercato invernale, Allegri poi lo confermerà all'interno di questa stessa conferenza stampa. Partiamo dal presupposto che per me è assolutamente giusto dare tempo agli allenatori, e io sono uno di quelli che Sarri, il secondo anno, gliel'avrei dato all'eliminazione della Champions, il secondo anno a Pirlo l'avrei dato, sono arrivato a pensare solo su Pirlo, che probabilmente andare avanti con lui sarebbe stato un errore vedendo la gestione della squadra post-eliminazione in Champions. E sono qua tranquillamente a dirvi che l'eliminazione dell'altra sera, e come è arrivata l'eliminazione dell'altra sera, e le parole del post-partito di Allegri hanno dato un duro colpo alla fiducia che ripongo in Massimiliano Allegri, perché come vi dicevo banalmente, io non posso fermarmi a dire Allegri ci ha fatto vincere cinque anni fantastici, ci ha portato all'alto finale di Champions, e quindi siamo pari e patta così. No, perché non si vive di ricordi, non si vive nel passato, si vive di presente per costruire il futuro. E quindi io sono dell'idea di dare continuità, ma perché lo sono sempre stato. Quando decidi di fare un progetto con un allenatore, serve fiducia in quel progetto. Se dopo un anno scarichi Sarri, se dopo un anno scarichi Pirlo, se dopo un anno riscarichi Allegri, significa che tu stesso non hai mai avuto sicurezza nella tua idea di partenza, e stai navigando a vista, banalmente. Quindi devi dare continuità. Però dall'altro lato dico, però attenzione che negli ultimi due anni, gli allenatori che dovevano avere continuità, non l'hanno mai avuta. E lo dice uno che, in questo momento storico timestamp, 19.3.22, buona festa a tutti i papà, ore 15.05, andrebbe avanti un altro anno con Allegri. Ma vi dice anche che questa non può e non deve essere la risposta definitiva. Perché se Allegri d'ora in avanti, vista l'eliminazione della Champions, non riesce a prendere le redi nella squadra, la squadra crolla, come è stato compito l'anno scorso, dove perdiamo in casa col Benevento, e attenzione che la Salernitana può essere un remake, diventa complicato poi dire allora andiamo comunque avanti con Allegri. Perché se la gioca tutta nelle ultime dieci partite, nove partite che mancano, dieci speriamo undici con la finale di Coppa Italia. Attenzione, perché giudizi definitivi non li puoi fare adesso. Li devi fare a fine stagione, nel bene e nel male. Chi è pro Allegri che contro Allegri. Siamo intesi, questo penso che sia il modo giusto di approcciarsi alla valutazione di una stagione calcistica. Poi torniamo al discorso che vi facevo ieri. Ognuno di noi ha degli obiettivi, si è dato degli obiettivi, vede la squadra, vede l'allenatore, vede il campionato, vede le competizioni e dice con questa squadra bisogna arrivare qua, con questa squadra bisogna arrivare qua. Io ieri vi ho spiegato i miei e vi ho detto anche quali sono stati quelli che ha chiesto la Juventus d'Allegri secondo le dichiarazioni ufficiali. Oggi si aggiunge un pezzettino e ci arriviamo. Allegri dice siamo passati da una situazione pericolosa quando eravamo almeno 10 dall'Atalanta il 6 gennaio di 10.30. Mi rifermo un attimo perché anche qua mentre editavo il video mi è venuto il dubbio ma siamo effettivamente stati a 10 punti dall'Atalanta il 6 gennaio di 10.30 e sono andato a vedere e in realtà no Allegri si è confuso eravamo almeno 3 dall'Atalanta in quel momento probabilmente intende che abbiamo recuperato 10 punti all'Atalanta ma non eravamo a meno 10 dall'Atalanta meno male che sono andato a verificare perché insomma questa non è una cosa da poco eh oggi abbiamo la possibilità di andare a giocare a un scontro diretto con l'Inter che potrebbe portarci a pari punti il 6 gennaio era assurdo e siamo stati bravi e fortunati in questa rimonta fortunati per forza di cose ragazzi perché quando sei sotto per tornare su dobbiamo perdere quelle altre per dire in questo momento sta giocando il Napoli poi giocherà il Milan e l'Inter oggi quindi se vogliamo recuperare mangiare qualche punto loro domani vogliamo vincere e loro devono lasciare qualcosa per strada non si scappa è l'unico modo speriamo che questo possa accadere a differenza di quanto l'abbiamo fatto col Villarreal dove non siamo stati bravi e fortunati quindi un po' di autocritica finalmente c'è perché l'altra sera sembrava che tutto perfetto no non può essere tutto perfetto e dice una cosa che mi ha fatto piacere è bella perché martedì si parlava di ambizione di vincere la Champions non di necessità non di obiettivo di ambizione e quella ci deve essere sempre perché se perdi questa se perdi l'ambizione di vincere io ce l'ho l'ambizione di vincere lo scudetto poi sono realista e non ci credo ma l'ambizione ci deve essere e invece giovedì è fallimento tuttora buttare no dobbiamo mantenere una linea di equilibrio ed essere lucidi non è che in due giorni i calciatori cambiano di livello in questo modo banalmente quando vai a investire certe cifre sui calciatori per forza di cose non è che oggi è fortissimo domani è scarso prendo Vlaovic come esempio perché leggo già tante critiche nei confronti di Vlaovic ecco abbiamo speso 80 milioni in realtà era un fuoco di paglia keep calm eh ragazzi keep calm perché non funziona assolutamente così abbiamo avuto più palle gol in Champions piuttosto che con lo Spessia non ci aspettavamo una sconfitta per 3 a 0 è vero però perché questa roba mi manda nei matti perché Allegri mi parla di palle gol quando perde e perché mi parla di risultato quando vince io credo di mantenere una certa coerenza e cioè valuto il risultato in primis è la cosa che più mi importa al termine ogni partita con ogni allenatore la Juventus ha vinto molto bene la Juventus ha pareggiato benino la Juventus ha perso eh sono uccelli senza zucchero diceva De Sica poi si analizza la prestazione come è arrivato questo risultato che è una parte fondamentale del calcio fondamentale perché è sempre quello il discorso quando io vi parlo e vi dico che se potessi firmare le vincerei anche tutte 1 a 0 al 90 con l'autogol del difensore non vi dico che voglio quello perché mi piace quello vi dico che per come vivo io il calcio preferisco che la Juventus vinca ma non significa che io non voglio vedere la prestazione e mi fa incassare Allegri quando perde e mi parla di prestazione buona e quando vince mi dice che non serve niente alla prestazione ma c'è il risultato bisogna mantenere un certo equilibrio una certa coerenza se no semplicemente si ha sempre ragione e si sta cercando di avere sempre ragione e io invece voglio avere torto io godo nell'avere torto perché è un modo per migliorarmi invece vedo sempre più spesso le persone che vogliono avere ragione punto e chi non si mette in discussione secondo me si preclude la crescita personale non parlo professionale mettersi in dubbio secondo me è sempre il punto di partenza giusto quindi un po' mi fa arrabbiare mi fa arrabbiare sentire Allegri che mi parla di prestazione perché abbiamo perso non ce la faccio è più forte di me poi fa una disamina bellissima sugli episodi che hanno cambiato le partite e sono d'accordo fa l'esempio se al 75esimo mi avessi chiesto come finisce questa partita avreste detto 3-0 per Villareal al 68esimo di Real PSG 3-1 è vero è verissimo è quello che ho sempre detto del calcio lo confermo al 100% il problema è che se esce dalla bocca di Massimiliano Allegri di quello che ha sempre sostenuto Massimiliano Allegri di quello che è Massimiliano Allegri di quello che ha detto anche di recente Massimiliano Allegri questa non è una giustificazione cioè non giustifica né l'eliminazione dalla Champions League né tantomeno la brutta sconfitta con cui siamo usciti dalla Champions perché è vero il calcio è fatto di episodi il calcio è strano il calcio qui e là sì però si lavora per migliorarle queste situazioni a maggior ragione da parte di un allenatore che storicamente queste cose hanno sempre costruito i successi della sua squadra e con cui si è creato un nome uno status quindi non vale prenderle a caso a seconda del contesto tra virgolette per pararsi il culo non può essere una roba di questo tipo cioè deve essere un discorso che vale in ogni caso in ogni risultato se no semplicemente siamo incoerenti questa cosa non giustifica per niente il 3-0 del Villareal proprio no proprio no poi giustamente dice non è che sono matto a mettere Di Bala 10 minuti dalla fine non è che dormo in panchina c'erano delle logiche e ovviamente è anche il discorso che vi facevo l'altro giorno il tifoso è ovvio che vorrebbe però non sa come stanno i calciatori cioè non lo sa e se Allegri ha messo Di Bala o stava per mettere Di Bala poco prima del gol che mancavano 15 minuti circa più recupero è perché sapeva le condizioni fisiche atletiche di Paolo Di Bala e infatti io tutto sto casino sul cambio non l'ho capito semplicemente perché sapevamo sapevamo che Di Bala non era un giocatore pronto e soprattutto lo stava per mettere sullo 0-0 che poteva voler dire anche tempi supplementari quindi quelle valutazioni lo fa lo staff poi oggi abbiamo parlato anche del discorso che probabilmente si sta cambiando staff e vedremo però quella è una roba che non capisco assolutamente non capisco Allegri dice io non sono abituato a giudicare la società mi ha chiamato per tornare a vincere sul lungo periodo ora faremo valutazioni su come migliorare la squadra come ogni anno Rudiger Di Bala Giorginio perché si è parlato anche di Giorginio vedremo e poi dice se il quarto posto secondo voi è fallimento fate bene a scriverlo questo punto mi ha triggerato malissimo perché è la frase più giusta del mondo questa frase se il quarto posto per voi è fallimento fate bene a scriverlo è perfetta e si incastra perfettamente nel video che ho fatto ieri e allora mi chiedo perché se martedì mercoledì sera un giornalista ti chiede è fallimento l'uscita dalla Champions a parte della Juve mi devi rispondere no la pensa così solo chi è disonesto intellettualmente è netta antitesi rispetto a quello che hai detto adesso capisco eventualmente a caldo e che tiro del culo hai perso tra zero virali quello lo capisco però quando oggi mi chiedono vuoi rettificare modificare no non voglio però poi a freddo ti dice la cosa giusta perché questa è la cosa giusta se uno vuole criticare critica che poi la critica debba essere costruttiva rientrare in determinati ranghi quello lì lo sappiamo è la base del mondo però se uno ha l'obiettivo che secondo lui uscire ai quarti agli ottavi scusate di Champions League contro Villa Real per 3-0 se sarà Juventus un fallimento è giusto dirlo e io lo dico a gran voce questa cosa non mi cambierà per me è un fallimento e infatti Allegri dice fate bene a dirlo però tre giorni fa eravamo disonesto intellettualmente quindi diciamolo sta un po' contraddicendo da solo poi mi ha fatto ridere perché ha detto nel calcio c'è una frase storica che a calcio vince chi vince è un bravo ragazzo chi perde poi sospensione non lo so mi è venuto da pensare coglione chi perde è coglione però non lo voleva dire non so mi ha dato questa cosa qui dice non è che c'è da spaccare l'atomo quindi una roba complicata che in pochi sanno fare c'è una specializzazione c'è da vincere le partite e raggiungere gli obiettivi dobbiamo avere l'ambizione di arrivare a giocare lo scontro diretto a meno 3 dall'Inter per poi andare a raggiungerli Galeone immagino perché parlava di allenatore diceva che se a febbraio non hanno ancora capitato la squadra abbiamo buttato mesi di lavoro sempre sul discorso della valutazione inerente ai giocatori ora conta che i giocatori di cui sono orgoglioso debbano fare il massimo poi vediamo dove arriviamo e faremo le valutazioni ma le valutazioni sui giocatori non le cambio strada facendo e questa cosa è bellissima perché cavolo noi tifosi siamo abituati questo è un periodo di forma particolare però allenatori non allegri gli allenatori in generale i giocatori li vedono tutti i giorni in allenamento quindi sanno effettivamente il livello del calciatore poi che ci sia la forma fisica alta la forma fisica bassa quello non cambia il valore intrinseco del calciatore che è un po' il discorso che facevo prima su Vlaovic e questa è una cosa che banalmente lo dico mi manca mi manca perché facendo questo tipo di lavoro mi piacerebbe essere più dentro a queste cose e vedere davvero quotidianamente gli allenamenti dei calciatori per capire cose che banalmente mi sfuggono ma non perché sia scemo un pochino anche sì ma perché non ho la possibilità di essere così dentro la Juventus e quindi per forza di cose anche quando faccio le riflessioni non è che vada a buttarmi a peso morto no perché sono e rimarranno sempre mie opinioni dettate da quello che vedo e percepisco durante la settimana e vedo durante le partite e questo ribadisco mi manca un po' poi dice dall'1-0 al 2-0 la squadra aveva preso a giocare con ordine poi siamo stati disattenti e abbiamo preso il gol sul calcio d'angolo io non sono d'accordissimo con questa analisi però sono letture ognuno ha la sua non possiamo stare a piangere ormai è finita e dobbiamo già rifarci da domani con il mercato di gennaio abbiamo accorciato i tempi di costruzione e sono contento e questo è il discorso che facevo ieri sugli obiettivi è impossibile che l'obiettivo con Ronaldo senza Ronaldo senza Vlaovic e con Vlaovic debba essere lo stesso la Juventus deve modificarlo a seconda di quella che è la rosa che dà in mano a Massimiliano Allegri e per forza di cose deve cambiarlo in corsa però a quanto pare non è stato modificato questo obiettivo ma lo stesso Allegri te lo dice cioè lui qua è onestissimo è lucido nel dirti guarda che c'è stata una scorciatoia che è il mercato invernale perché se no si faceva fatica ma lo sapevamo tutti cioè banalmente lo sapevamo tutti è per questo che adesso vogliamo quel qualcosina in più che si era visto nelle primissime partite post mercato e che si è già perso si è sciolto un po' come neve al sole e non va bene secondo me non va bene proprio non va bene poi dice equilibrato sui giudizi nei vari momenti quando andavamo male non è che tutto andava male quando andava meglio non è che era tutto perfetto dopo l'eliminazione non è tutto rabuttare è vero è vero poi l'altro giorno un ragazzo mi ha scritto Luca solitamente sono d'accordo con te ma in questo video sei poco lucido non ti ho riconosciuto è stata più una valutazione dettata dalla rabbia dell'eliminazione ma benissimo ma io sono contentissimo di leggere questi commenti qua perché sì non posso essere lucido non posso essere lucido come non possono essere lucidi loro che ci lavorano e per quello che vi dicevo a freddo è già un allegre diverso rispetto a quello a caldo perché il calcio è emozione o almeno per me è lavoro ma soprattutto è emozione e quindi non riuscirò mai ad essere totalmente lucido io posso provare sforzarmi ma al 100% ma penso nessuno non io in generale nessuno penso proprio nessuno poi parla di obiettivi minimi minimi cioè l'obiettivo minimo è l'ottavo di finale parole direbbe bene l'obiettivo minimo in campionato è il quarto posto che sono gli obiettivi che ha raggiunto Andrea Pirlo allora qua tornerà fuori per sempre sta domanda se questi sono davvero gli obiettivi minimi per quale motivo Pirlo è stato allontanato cioè questa è una roba che ad oggi non riesco a rispondere a questa domanda cioè se prendi Allegri ma l'obiettivo minimo è ottavo di finale e quarto posto perché è stato allontanato Andrea Pirlo l'unica risposta coerente che riesco a dare è perché si aveva l'intenzione di cedere Cristiano Ronaldo e se arrivi comunque agli ottavi di finale con Ronaldo e quarto con Ronaldo figurati senza questa è l'unica risposta che mi riesco a dare ma mi sembra una risposta debole quindi anche qua voglio il vostro aiuto ditemi un po' la vostra poi Allegri dice tutto l'ambiente ha ritrovato fiducia per noi arrivare a giocare il 3 aprile una finalina per il terzo posto è un buon successo rispetto a dove eravamo qualche mese fa poi mancano ancora otto partite e vedremo dove potremo arrivare io ragazzi ve lo ripeto ve lo firmo qua Allegri i mesi che crede nello scudetto e ve lo dimostro dicendo che Allegri conclude con quando ti allontani dallo scudetto è pericoloso perché inizi a allontanarti anche dalla zona champions e Allegri dice attenzione che non siamo ancora in champions perché dietro noi c'è l'Atalanta ma non solo la Roma la Lazio la Fiorentina allora Allegri non crede nello scudetto che dovrei guardate avere la classifica qua Milan 63 Juventus 56 quindi 7 punti dal primo posto non ci crede però dice di stare attenti alla Fiorentina che ha 46 punti cioè 10 punti in meno di noi quindi le strade sono due o ha pochissima fiducia nella Juventus e molta fiducia nella Fiorentina e quindi teme che questo possa accadere e che quindi possano crollare Juventus Lazio Atalanta e Roma quindi 4 squadre oppure falso come una banconota da 2 euro quando parla di Juventus fuori dallo scudetto e questo è proprio una banalità matematica quindi ragazzi io credo che bene o male l'unico modo che abbiamo per sollevare questa stagione nel migliore dei modi sia davvero credere nel miracolo e sperare nel miracolo cioè che iniziano a sbandare un po' di quelle squadre avanti e noi no e cercare di chiudere increscendo questo campionato questa stagione che fino adesso ci ha dato ben poche soddisfazioni dalla Juventus che parte malissimo al Ronaldo che se ne va alla Supercoppa Persa la brutta sconfitta con il Chelsea in Champions League per 4 a 0 a Londra la brutta eliminazione in Champions League con il Villareal attenzione vedremo il ritorno con la Fiorentina perché il ritorno in casa a quanto pare non porta benissimo di Coppa mi pare di capire negli ultimi 4 anni in Champions se è sempre usciti così e credo bene o male che nemmeno una Coppa Italia riuscirebbe a anzi tolgo il credo nemmeno la Coppa Italia riuscirebbe a e l'unica sarebbe un 5 maggio 2022 al cui non credo io ma a quanto pare i diretti interessati si fatemi sapere un po' cosa ne pensate di tutto questo discorso scusate sono stato un po' lungo lo so sono sempre lungo me lo dite sempre accorcia 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 ma come faccio raccorciare sono così tante cose da dire o vi faccio 6 video ogni giorno vi faccio 6 video corti oppure ne faccio un paio però lasciatemi chiacchierare che mi piace non credo Grazie a tutti.